Ciao, oggi sono qua per parlarvi dell'ultimo libro che ho letto, The Store, James Patterson, con Richard Di Lallo, uno dei suoi dodici ghost writer, come lui ammette. Richard Patterson, che lo possiamo dire, è lo scrittore più letto al mondo, mi sembra, 355 milioni di copie. The Store è un libro particolare, quasi un 1984 adattato alla nostra epoca, è un libro interessante, molto scorrevole, si legge proprio in due o tre giorni, e alla fine si scopre che effettivamente forse siamo già anche noi in un nuovo 1984, dove The Store, chissà chi è, vi lascio un nome, Amazon forse, è una critica non molto nascosta, non molto camuffata a Amazon, comunque è avvincente da leggere, con qualche riflessione sulle cose che facciamo ogni giorno, quindi ve lo consiglio, James Patterson, The Store, buona serata.